Una tragedia che ha sconvolto l'intero quartiere Paolo VI di Taranto giovedì sera. Un uomo di 37 anni è morto, folgorato. Pare che la vittima fosse intenta a riparare un condizionatore d'aria su un balcone di un edificio in Viale dell'Industria. Sono stati purtroppo inutili tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia di Stato con il personale della squadra volante. È praticato per quasi un'ora il massaggio cardiaco ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sarà adesso necessario accertare la dinamica precisa dell'accaduto. Poco dopo l'allarme sono giunti sul posto anche gli uomini dell'ispettorato del lavoro di Taranto ed il medico legale per accertare le cause del decesso. Le indagini sono state subito avviate, gli uomini della polizia scientifica si sono recati sul luogo della tragedia al fine di raccogliere elementi utili per ricostruire quanto accaduto.